Ciao a tutti ragazzi da Blufforever, oggi player review di Nolito Sif La carta ci presenta un ruolo di esterno sinistro, 82 di velocità, 80 di tiro, 79 di passaggi, 87 dribbling, 55 difesa e 56 di colpo di destra Se andiamo a vedere le statistiche in game presenta 85 di accelerazione, 94 di aggiorità, 87 di equilibrio, 82 di scatto, 65 di forza fisica, 80 di aggressività, 76 nel posizionamento 88 di controllo palla, 80 di cross, 95 di tiri a giro, 91 di dribbling, 85 di precisione nei tiri, passaggi lunghi 80 e tiri della distanza 81 83 di passaggi corti e 84 di tiri potenti E poi 75 di tiri al volo Allora questo giocatore intanto premetto che l'ho utilizzato come ATS nello squad builder che ho caricato abbastanza tempo fa Non sono riuscito a caricarvi in tempo questo giocatore perché non lavoro molto tempo ma ora sono qui per portarvelo Vi dico che è un giocatore che è molto completo, ha tantissime caratteristiche col verde chiaro e scuro Per quanto riguarda appunto le statistiche in game Allora intanto vengo a parlare della velocità Velocità che è 80 con 82 di scatto e 85 di accelerazione quindi è un pochettino più alto, 83-84 diciamo in game Il tiro, il tiro è fantastico perché ha 95 di tiro a giro, 85 di precisione, 83 di tiro, 84 anzi scusare di tiro potente Di conseguenza il tiro non è proprio un 80, è un 86 per diciamo così Il suo piede è il destro e lui gioca sulla fascia sinistra Di conseguenza è un peccato farlo giocare da esterno sinistro Quindi vi consiglio di farlo giocare come A la destra oppure ATS Ha 3 stelle di piede rebole e comunque vanno comunque bene visto che gioca sulla fascia sinistra E 4 stelle di mostrabilità che gli calzano davvero a pennello Il controllo palla è 88 ed è un controllo palla assurdo Dei controlli perfetti Presenta poi i work rate alto medio che sono degli ottimi work rate per lui Visto che si trova molto spesso appunto in attacco E poche volte appunto nei controlli piedi che è pronto a partire Costa sui 12.000 crediti Quindi questo qui è un giocatore davvero molto forte e che costa pochissimo in pratica al prezzo di scarto Ricapitolando i pro e i contro Ha un tiragiro pazzesco Un controllo palla sublime I passaggi che sono davvero ottimi C'ha 80 di cross con passaggi lunghi 80 e passaggi corti 83 E quindi è davvero un buonissimo giocatore per impostare la manovra Le 6 4 stelle skill gli stanno alla perfezione Così come work rate che sono alto medio E il prezzo è l'ultimo pro che appunto costa 12.000-13.000 crediti Mentre passiamo ai contro Ragazzi vi devo dire che questo giocatore qui non ha contro Io non ho riscontrato nessun contro Perchè è assurdo Neanche se voi cercate proprio il pelo nell'uovo Non li trovi contro di questo giocatore qua Perchè appunto lo usi come alla sinistra con un ottimo tiro Una buona velocità Anche il colpo di resto in confronto Non perchè è 56 ma A me mi ha anche abbastanza sorpreso E più buggato Quindi davvero non ci sono contro Quindi è un giocatore che vi consiglio assolutamente Comunque ragazzi Questa qui è la pre-review di Nonlito Sif Se vi è piaciuta e la trovate interessante Vi invito a lasciare un mi piace A commentare E a condividere Quindi per questo video è tutto Da Bluff Forever Al prossimo video Bella Al prossimo video